L'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione di questo tempo ed è anche la principale sfida che abbiamo davanti dal punto di vista antropologico, dal punto di vista economico, dal punto di vista produttivo e sociale. Noi eravamo abituati ad un progresso che aveva come obiettivo soprattutto quello di ottimizzare le capacità umane e che si concentrava essenzialmente sulla sostituzione del lavoro fisico in un mondo nel quale l'uomo rimaneva comunque al centro e poteva anzi concentrarsi sui lavori di concetto, sui lavori di organizzazione. L'intelligenza artificiale ha ribaltato questo paradigma perché a essere soppiantato oggi non è più il lavoro fisico ma rischia di essere l'intelletto umano, ovvero ciò che da sempre ha reso l'uomo insostituibile rispetto a una macchina, insostituibile da una macchina. È una tecnologia che può sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti, i suoi bisogni. Questa è la bussola che ha orientato e continuerà a orientare il nostro lavoro a ogni livello, a partire chiaramente dalla presidenza del G7.